Come abbiamo illustrato nei podcast precedenti, i tassi di interesse sono in crescita e questo comporta che i nuovi finanziamenti saranno più onerosi e che le rate di chi ha contratto debiti e tasso variabile saliranno. In queste circostanze si sentono diffusi a pelle ad accappararsi un tasso fisso prima che sia troppo tardi e talvolta una sensazione di urgenza e pressione forse ingiustificata. Vale la prendere a ricordare alcuni concetti di base come la possibilità di rinegoziare i termini dei contratti di finanziamento dunque non bisogna avere l'ansia di perdere l'affare del secolo e l'opportunità di far coincidere le scelte di indebitamento con le reali esigenze individuali senza farsi influenzare troppo dall'andamento dei mercati e soprattutto senza perdere di vista la sostenibilità, ossia la prospettiva di dimensionare gli impegni che si prendono in misura a proporzionare alla propria capacità di tenermi fede. Provando a tenere sempre il discorso in parole povere, vediamo che differenza c'è tra tasso fisso e tasso variabile concentrandosi sui mutui per l'acquisto di abitazioni che costituiscono il caso più comune. Un mutuo a tasso fisso è un'operazione nella quale il tasso di interesse applicato al finanziamento rimane invariato per tutta la durata dell'operazione. Un mutuo a tasso variabile invece prevede l'applicazione di un tasso diverso per ciascun periodo, generalmente per ogni mese, che viene determinato aggiungendo una maggiorazione, il cosiddetto spread, ad un tasso di riferimento pubblico e conoscibile da tutti. Per l'Europa si usa in genere l'Euribor. Cosa cambia? Quale conviene? Come sempre in questi casi non c'è una risposta che vada bene per tutti. Il criterio da tenere presente è che, a parità di altre condizioni, il tasso fisso è in partenza sempre superiore al tasso variabile, perché include una sorta di protezione, come una polizia di assicurazione, nei confronti delle variazioni future. Dunque, se vado in banca oggi e chiedo due quotazioni, quella a tasso fisso sarà sempre più alta. Nel tempo, però, il tasso variabile potrebbe salire e verosimilmente superare il livello del tasso fisso considerato in partenza. Dunque, la scelta principale è tra tollerare le fluttuazioni di una rata, anche considerevoli, per esempio una crescita del doppio, oppure assicurarsi un tasso fisso, accettando però di pagare di più in partenza. A rigor di logica, per chi non vuole tollerare le fluttuazioni, l'ideale è bloccare il tasso quando i livelli di mercato sono bassi, per esempio lo sono stati negli ultimi anni, in modo da affrontare con serenità i periodi di turbolenza e quando i tassi salgono come sta avvenendo oggi. Non è però certo che il bisogno di finanziarsi coincida con i momenti in cui è molto conveniente farlo, ma tuttavia è sempre ricordato che le condizioni di finanziamento possono essere rinegoziate e che gli stessi effetti possono essere ottenuti accendendo un nuovo finanziamento a condizioni più vantaggiose in maniera che il secondo costo sostituisca il precedente. Per riassupere, ora che i tassi sono in salita, conviene bloccare un finanziamento fisso? Se avete la necessità dei fondi in prestito e non potete permettere di oscillazioni rilevanti nella rata, allora oggi, come sempre, è preferibile optare per un tasso fisso. Se potete sopportare delle variazioni anche importanti nella rata pagata, è verosimile che vi vorreggia scegliere un tasso variabile. Avete ascoltato? La finanza in soldoni, un progetto multicanale che include anche un libro con lo stesso titolo disponibile su Amazon, una serie di pillole video sul canale YouTube di Massimo Famularo e un blog. Trovate maggiori informazioni sul sito massimofamularo.com Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.